Siamo qui con uno degli organizzatori di questa Corri a Lecce, io ti devo dire una cosa, complimenti, perché veramente fare un evento di questo genere a Lecce non è roba da tutti, chapeau a te e a Luigi. Grazie, io a parte le condizioni che sono devo chiedere prima di tutto una scusa formale dal punto di vista proprio dal cuore, perché sicuramente qualche cittadino non gli è arrivata questa informazione di questa giornata spettacolare per la nostra città, quel qualcuno di cittadino che sicuramente gli abbiamo creato disagio, che doveva andare dai genitori, doveva andare dalla mamma che stava a casa, ha trovato sicuramente degli sbarramenti. Io dico questo, ho chiesto alla maggior parte degli atleti che venivano da fuori regione, fuori città, sono rimasti contenti e hanno fatto i complimenti innanzitutto alla città. Io mi faccio da parte sotto questo punto di vista perché io non voglio sembrare che io faccia questa cosa, io voglio che la città faccia questa cosa, perché questa è una manifestazione che deve andare oltre, oltre, oltre. Tutte le aspettative che noi mettiamo in conto sono quelle di far del bene. L'immagine che noi abbiamo dato, lustro a questa città, che già lo tiene dal punto di vista logistico, del centro storico, della cordialità delle eccesi, della solidarietà delle eccesi. Però io chiedo questo, sappiate, in anteprima ve lo dico adesso, a tutti quanti sarete anche informati dal punto di vista delle amministrazioni, il 2 marzo 2014 sarà la quarta edizione. Quindi io vi sto dicendo, anticipiamo, io vi sto dicendo in anticipo di un anno che la quarta edizione sarà il 2 marzo. Noi faremo di tutto per avvisarmi la data effettiva confermata da tutte le federazioni, che il 2 marzo sarà la nostra data. Quindi chiedo quello che dici tu e che io vi ho chiesto a voi, a Di Pianeta Lecce, mi state dando una mano a collaborare, a far crescere questo evento. Chiedo ai miei concittadini, collaboriamo per questo. Abbiamo fatto una grandissima figura, i disagi li abbiamo creati. Se sono questi i disagi, permettimi, insomma dai, quando è un evento di questo genere io non li chiamerei i disagi, permettimi di dirlo. Sì. Capisco la tua onestà nel dire, però comunque... Io li metto dal mio punto di vista e per come sono formato caratterialmente. E poi devo fare un ringraziamento speciale al corpo di comando della Polizia Municipale, che la giornata di oggi non è uscita per fare, diciamo, quello che magari qualcuno pensa, di dare degli ordini o di vincolarli a stare fermi o di fargli dei divieti. Hanno collaborato tanto e mi dispiace quando prendono delle parole che non se le meritano. Sicuramente nell'arco della loro giornata professionali sbaglieranno qualcosa. Però un evento del genere va rispettato. Rispettato per noi leccesi. Perché oggi chi se ne va di qua vedrà che cosa? Vedrà una giornata splendida nella giornata di Lecce. Lecce non è né del nostro sindaco, non è né dei vigili, non è né mia. È dei leccesi. Quindi grazie a Polo Perrone come sindaco, agli amministratori, a chi ho visto e è venuto con un cartello a dire stop alle auto nel centro. Ci vuole collaborazione. Collaboriamo che avremo i frutti. Collaboriamo che avremo i frutti. Senti, se ti dico una cosa non ci credi. Tu come sai siamo in diretta, in streaming. Abbiamo controllato un po' i nostri dati. Lo sai che ci stanno guardando dalla Germania, dall'Australia? Veramente è pazzesca come cosa. Allora questa notizia che tu mi stai dicendo mi lusinga perché oltre agli italiani che stanno sentendo la mia voce lo sentono anche fuori Italia e quindi sapranno che Lecce, nonostante si trova al tacco, a 1200 km dalle capitali europee, comunque noi stiamo dando una dimostrazione di crescita. Quindi grazie a Pianeta Lecce che ha questa presenza. Grazie a voi. Io devo dire e ribadisco, il 2 marzo sarà la quarta edizione. Collaboriamo, leccesi miei collaboriamo. Grazie, grazie, grazie. Grazie a Simone Lucia, ti lascio anche perché tu ufficialmente non hai corso, però io ti vedevo che correvi. Grazie, stiamo andando a fare le premiazioni perché c'è chi ha vinto e quindi merita il giusto ricompensa. Quindi restate con noi che tra poco andiamo a vedere in diretta le premiazioni. A tra poco. Ciao.